Grazie 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 a tutti. 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 l'arissimolo. Senti. Iki tane kamera da çekiyorum. Çektikleri kameranya azzinade ezi andı. Iki tane kamera çekiyor. Çektikleri kameranya la città. Sì Inshallah, inshallah. Frensus'e çok ağır kaldı. Yavaş kaldı. Cheyenne, Hasan Yammar mi? Hasan Yammar mi? Fizer ne yapıyor? Musco. Fizer ne yapıyor? Kemal'le Musco. ... ... ... ... ... Fuerte Dani, ora fuerte, queda un po' un po' un po' Dani Atento Sì, lo 23 Sì No, no 10 secondi Cuidado Tappa, tappa, tappa Chiongo, Chiongo Chiongo, Pepe No, sta finendo il giro No, no, sarà la voglia Sì, sarà la voglia Chiongo, Chiongo, Chiongo Chiongo Yorgun duruyor baksana Tepe gibi yorgun duruyor İlk başlarda şovunu yoksa şimdi gitti Abi Aynen Aynen Sì, sì, sì Okì, sì, sì Okì, sì, sì Okì, sì, okì È Giongo! È Giongo! Giongo! È Giongo! È Giongo! Quando? Sì, sì, no! Allora? Perché è quello che dice? Esquivare. Che è esquivare la salita? No, no, no. Se dà la volta e salita. Che stava in seguito? Che è esquivare la montagna? 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 No, Giulio! No lo dejes hacer! Dani, no lo dejes hacer! Colócate bien! Atento! Tapa? Che è esatto? Chi è esatto? Chi è esatto? Chi è esatto? Chi è esatto? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti